Ragazzi, buona giornata a tutti, allora voglio un po' un attimo entrare in questo discorso siccome sento molti e leggo molti che parlano appunto di questo eventuale top a centrocampo che non arriverà e non servirebbe nemmeno, qualcuno dice, perché abbiamo Rabiot e Ramsey allora io adesso non voglio fare sempre basti al contrario, però bisogna anche chiedersi perché Ramsey e Rabiot sono andati via zero dalle proprie società, ma a parte questo bisogna chiedersi perché a quell'età lì, soprattutto uno come Rabiot, ha avuto quei problemi lì, comportamentali, quello che volete però anche tecnicamente probabilmente non era questo grande fenomeno, perché Neymar ha dei comportamenti abbastanza discutibili eppure gioca titolare, significa che se uno è bravo se ne sbattono dei comportamenti questo penso sia evidentemente anche, non so, tipo un Ballotelli o gente del genere quando si dice che non hanno fatto salto di qualità semplicemente per un discorso mentale per me si dice una fesseria perché evidentemente qualora fossero stati veramente giocatori fenomenali probabilmente avrebbero trovato comunque lo spazio nel calcio che conta comunque a parte questo, qualora non arrivasse il top a centrocampo perché dico che per me il centrocampo da Juventus non sarebbe da Champions perché? perché comunque il Barcellona spende 80 milioni e si prende da Jong perché Real Madrid comunque continua ad avere Modric, Cross e Casemiro e forse prenderà Pogba quindi uno di quei tre probabilmente partirà Modric adesso a questo punto e spendono centrocampo non puoi pensare di competere con squadre importanti, con centrocampi importanti con due parametri zero perché così ragionando ragazzi per quanto riguarda la difesa la Juventus si è mossa benissimo per quanto riguarda il centrocampo l'Ams è un giocatore che a me piace però come ho già detto ha problemi fisici non si può basarsi su un giocatore titolare che ha perenni problemi fisici poi magari quest'anno potrebbe non averli e speriamo però non si può partire con appunto un giocatore così Rabiot è un giocatore che insomma quanti anni ha? 24, 25 e non ha dimostrato praticamente nulla ok potenzialmente quello che vogliamo però di fatto ha 24, 25 anni un centrocampista o un attaccante soprattutto per quanto riguarda questi due reparti dovrebbe essere già formato e dovrebbe aver già fatto salto di qualità qualora fosse appunto un top player e per quanto riguarda il resto gli altri centrocampisti abbiamo Emre Can che probabilmente ripeto in questo momento è potenzialmente l'unico top player al centrocampo che potremmo avere Bentancur lasciamo stare che Dira probabilmente partirà e spero parte insomma Matuidi è un giocatore che molti dicono è il campione del mondo quello che vogliamo però ragazzi con i piedi io penso che ci siano molti giocatori con le sue caratteristiche quindi recupera pallone e quant'altro un incontrista però quando hanno palla al piede sanno usare i piedi Matuidi non sa usare i piedi ecco quindi una volta recuperata palla la perdi subito e poi Pjanic Pjanic con Sarri a mio avviso a mio avviso non imparerà a verticalizzare perché quelle cose lì ce le hai nel DNA con Sarri Pjanic potrebbe potrebbe migliorare una cosa la velocità di pensiero ok quindi sapere già dove dare a chi dare il pallone prima che gli arrivi quella cosa lì Pjanic potrebbe migliorarla perché io sono dell'idea che con giocatori tecnici davanti in parte dietro a Pjanic nello stretto e non quindi in verticale lanci lunghi e quant'altro ma nello stretto Pjanic sappia usare il pallone sappia usare i piedi e quindi penso che con dei giocatori non dico diventi un fenomeno però potrebbe diventare un ottimo giocatore nello stretto a patto appunto che gli si mettano dei giocatori tecnici in parte ok dietro e davanti quindi Emre Can comunque è fisico però sa usare i piedi e sa giocare di prima e l'ha già dimostrato in parte per questo io vorrei un top player che poi ci sono dei giocatori individuali come anche lo stesso Ronaldo che bisognerà vedere quanto in un determinato tipo di gioco come quello di Sarri possa incidere prima di tutto ma Ronaldo è Ronaldo quindi non abbiamo problemi ma quanto possa abituarsi al gioco più di collettivo che individuale nel senso che non è che puoi prendere sempre palla cercare il doppio passo e saltare l'uomo col gioco di Sarri devi dare via il pallone e scattare in profondità e tagliare fuori la difesa avversaria così sotto questo aspetto penso che Ronaldo non abbia problemi però altri giocatori potrebbero averli come magari un Pogba faccio un esempio che Pogba per me non arriverà ripeto abbiamo lo 0,00001% di possibilità quindi veramente non arriverà qualora arrivasse un centrocampista top potrebbe essere Unisco che potrebbe fare a mezzala una mezzala moderna potrebbe essere è difficile adesso su due piedi dirne un paio perché tutti costano più di 100 milioni e penso che la Juventus per il centrocampista qualora volesse spendere soldi per il centrocampista top non spenderà 100 milioni però per quanto mi riguarda una volta arrivato l'Elite poi arriverà uno tra i Cardi e Chiesa e il mercato nostro finirà lì questo è un mio pensiero ovviamente però per questo io dico ragazzi qualora non arrivasse il top per me il centrocampo avrebbe ancora quella lacuna che critico da 4 anni ormai da 3 anni e non sarebbe a mio avviso magari numericamente sì perché magari rimane Matuidi e c'è di solo che dire però tecnicamente per me non sarebbe uno dei centrocampi più forti poi qualcuno mi disse sì ma il Liverpool però ragazzi prendendo individualmente quelli del Liverpool non è che essendo che non li conosci perché hanno dei nomi strani io li ho visti giocare un po' però ragazzi tecnicamente sono siccome è superiori al nostro centrocampo poi è altrettanto vero che è da 2-3 anni che giocano in una determinata maniera qualora non arrivasse il top al centrocampo bisognerebbe solo sperare in Sarri ok che valorizzi Rabiot che valorizzi Ramsey che appunto non faccia fare non faccia avere tanti infortuni Ramsey insomma bisognerebbe sperare nel miracolo Sarri qualora non arrivasse il top al centrocampo questo per me è il quanto forse anche per questo la società ha preso Sarri perché riesce a valorizzare dei giocatori non dico sconosciuti però abbastanza che hanno reso insomma sotto la media sotto le proprie possibilità quindi io penso che bisogna vedere più che altro come intanto ci vorrà del tempo cioè non possiamo pretendere che Sarri i primi tre mesi i primi quattro mesi faccia giocare subito la squadra di prima con giocate fantastiche insomma anzi perché col Napoli e anche col Chelsea Sarri i primi mesi del primo anno soprattutto ha avuto difficoltà non solo di prestazioni ma anche di risultati quindi bisognerà anche avere pazienza qualora non arrivassero dei risultati cioè non arrivassero delle vittorie ci scappa un pareggio invece con una vittoria non incassarsi subito perché comunque è un nuovo allenatore con un nuovo modo di giocare Sarri ha dimostrato che al secondo barra terzo anno le squadre girano alla grande anche metà della seconda parte della prima stagione quindi vedremo vabbè questo è il quanto ragazzi fatemi sapere per quanto riguarda il centrocampo appunto della Juventus qualora non arrivasse il top al centrocampo molti dicono appunto di Rabiot Ramsey io ripeto con Rabiot Ramsey sulla carta sulla carta escludendo quindi il miracolo Sarri che potrebbe fare sulla carta non partiremo a mio avviso come favorita per quanto riguarda soprattutto il centrocampo per la Champions League tutto questo buona giornata a tutti a tutti non partiremo Grazie.